Le biblioteche e i libri sono belli da vedere e lo slogan dell'iniziativa Bibliotour Piemonte Torino ideata per promuovere turisticamente beni culturali che sono noti soprattutto per i loro contenuti e non per l'attrattiva estetica o la loro storia. Il Bibliotour inizia venerdì 18 novembre con la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso a Palazzo Cisterna e con la Biblioteca dell'Accademia delle Scienze. La seconda tappa, venerdì 25 novembre, toccherà la Biblioteca Reale e la Biblioteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti. Questa era già la volontà di Carlo Alberto che aprì la sua biblioteca al pubblico con un atteggiamento decisamente democratico per l'epoca ma soprattutto per un patrimonio straordinario che va dal patrimonio archeologico, quello artistico, disegni, fotografie, grandissimi portolani cinquecenteschi, oltre a patrimonio bibliografico che è di straordinaria importanza con i suoi 250.000 volumi di cui 4.500 manoscritti, 200 incunaboli, 600, 700, una grande biblioteca di conservazione. Dagli anni 30 dell'Ottocento l'Accademia Albertina ha l'edificio che ancora oggi la custodisce ma ha anche a disposizione dei volumi che sono stati realizzati per volontà di Carlo Alberto dai docenti di quegli anni per essere strumento della formazione artistica e in particolare dell'anatomia artistica. Saranno tra i tesori più interessanti svelati in occasione della visita. Le visite guidate alle biblioteche sono arricchite dalla narrazione, da parte dei bibliotecari, della storia dei volumi, dei fondi e delle opere più significative e dell'edificio storico che le ospita. L'ingresso è gratuito su prenotazione. Bibliotour Piemonte Torino è un'iniziativa della regione in collaborazione con la città metropolitana, con l'ATL Turismo Torino e Provincia e con l'Associazione Torino Città Capitale Europea. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero verde 800 32 93 29 o scrivere a bibliotour.piemonte.it indicando la data scelta, il nominativo e il numero di partecipanti, il riferimento telefonico e l'indirizzo e-mail.